ciao a tutti benvenuti anche oggi sul mio canale anche oggi per un video dedicato al festival di sanremo festival di sanremo ogni edizione un video per ogni edizione per raccontare su youtube la storia di questa grande manifestazione musicale oggi siamo al festival di sanremo numero 50 e vi racconto tutto quello che riguarda il festival di sanremo del 2000 buona visione il cinquantesimo festival di sanremo si tenne a sanremo dal 21 febbraio al 26 febbraio del 2000 questa edizione fu presentata da fabio fazio al suo secondo festival di sanremo consecutivo affiancato dal tenore luciano pavarotti teoteoccoli e dalla modella e attrice spagnola ines sastre a vincere nella categoria campioni fu la piccola orchestra di on travel con la canzone sentimento mentre fra le nuove proposte a vincere fu geni b con la canzone semplice sai la direzione artistica venne curata da mario maffucci la regia da paolo benvi la scenografia d'armando nobili e l'orchestra venne diretta dal maestro gianfranco lombardi inizialmente come conduttore di questo festival di sanremo del 2000 doveva essere amadeus che poi sappiamo conduttore futuro e direttore artistico dell'edizione 2020 era previsto così perché lo stesso amadeus aveva firmato nel maggio del 99 con la rai un contratto che appunto lo regava il festival di sanremo ma alla fine a causa del poco feeling tra il conduttore e il direttore artistico mario maffucci e visto anche il grande successo dell'edizione precedente condotta sempre da fabio fazio l'allora direttore di rete agostino sacca decise di riappidare nuovamente a quest'ultimo la conduzione la classifica finale che decretò la vittoria degli avion travel fu volutamente falsata dalla giuria di qualità che diede voti bassi a tutti i cantanti in gara eccetto al gruppo di beppe servillo al quale fu dato il massimo dei voti sembra che la ragione secondo quanto rivelato poi successivamente fu quella di voler premiare e far vincere un brano di qualità quindi per far vincere un brano di qualità decisero di falsare i voti di tutti gli altri complimenti chiaramente a fazio e come ogni festival di sanremo anche questo festival di sanremo ha un suo dopo festival e sarà condotto da alessia marcuzzi questo era il festival di sanremo del 2000 e siamo alla classifica delle canzoni del festival di sanremo quella che vi dico adesso non è però la classifica dei rischi più venduti che vedremo dopo ma è la classifica della serata finale perciò come arrivarono i cantanti in gara quell'anno al festival di sanremo allora dunque ad arrivare ultimo a questo festival di sanremo falsato perché così è stato detto con tutti i voti bassi tranne che per gli avion travel per appunto avere una canzone di qualità che poi anche questo a dirlo con tutta sincerità di là che sentimenti era una bella canzone davvero la qualità poi insomma ognuno ha la sua qualità nel senso non si può certo dire che quella del degli avion travel era una canzone di qualità e quella di umberto tozzi no cioè voglio dire è molto personale il giudizio a essere sinceri però vabbè questo era il sanremo di fazio allora dunque ad arrivare ultimo al festival di sanremo del 2000 fu proprio umberto tozzi la canzone era un'altra vita al numero 15 arrivò marco masini con raccontami di te al quattordicesimo posto arrivò mariana nava in coppia con ammedeo minghi la canzone futuro come te al numero 13 arrivò mietta la canzone era fare l'amore al numero 12 arrivò i veri spagna con il tuo nome mentre al numero 11 arrivarono i subsonica la canzone era tutti i miei sbagli al numero 10 gigi d'alessio con non dirli mai al numero 9 alice con il giorno dell'indipendenza al numero 8 i macchiavasar con brimido caldo al numero 7 carmen consoli con in bianco e nero al numero 6 girardina trovato con jackie vampiri al numero 5 samuele berzani con replay al numero 4 max gazzè con il timido ubriaco il podio del festival di sanremo del 2000 sarà il seguente al terzo posto gianni morandi chiaramente con fazio gianni morandi arriva terzo con la canzone innamorato al secondo posto arrivere ne grandi o con la tua ragazza sempre canzone di vasco rossi e curreri mentre a vincere il festival di sanremo del 2000 sarà la canzone di qualità di fazio sentimento piccola orchestra avion travel e siamo alla classifica dei rischi più venduti del festival di sanremo del 2000 feste saremo del 2000 che vede in gara 34 canzoni ben 34 canzoni partecipano al festival di sanremo del 2000 ed arrivare nella classifica dei rischi più venduti dell'anno saranno tre canzoni sono queste tre canzoni più vendute le feste del salremo del 2000 allora più vendute in assoluto sarà quella di rene grandi la tua ragazza sempre che debutterà al numero 59 della classifica dei rischi più venduti del 2000 al numero 67 ci saranno i subsonica con tutti i miei sbagli e al numero 99 carmen consoli con in bianco e nero però oltre a queste tre canzoni che poi entrano appunto a far parte della classifica dei rischi più venduti dell'anno anche altre canzoni di sanremo però venderanno tantissimi dischi tantissime copie e saranno un grande successo per questo motivo volevo citare fare l'amore ad esempio la canzone di mietta oppure jackie pampiri di giardina trovato la canzone che vince sanremo sentimento delle adion travel il timido ubriaco di max gazzè e replay di samuele bersani sono queste le canzoni più vendute del festival di sanremo del 2000 e vi ringrazio per aver seguito anche oggi un nuovo video dedicato al festival di sanremo alle edizioni numero 50 in questo caso abbiamo parlato del festival del 2000 e cioè il primo festival del nuovo millennio questo è il festival di sanremo appunto di quell'anno vi ringrazio per aver seguito quindi questo video vi aspetto al prossimo vi invito se volete a iscrivervi al canale e vi aspetto alla prossima volta ciao dalle ciao